Venerdì 28 giugno, cari amici del canale YouTube, rieccoci, venerdì 28 e non c'è ancora un acquisto da parte del Milan. Il mese di giugno è volato via così, senza sussulti, senza colpi. L'unica ufficialità è stata quella di Fonseca, il 13 di giugno, sono passati già diversi giorni dal 13 di giugno e non è stato fatto alcun acquisto. Parlavo in chat con i colleghi di Milan News nel corso della mattinata e dicevo con giugno che è praticamente saltato via, il Milan dovrà fare più o meno 4 acquisti, il minimo 4 acquisti nel corso dell'estate e dovrà viaggiare con la media di un'ufficialità ogni 15 giorni, perché mancano poi due mesi alla conclusione del mercato, il mercato chiude al 30 di agosto e quindi se vuoi fare 4 acquisti devi annunciarne uno ogni 15 giorni. Sarebbe consigliabile arrivare al campionato già con la rosa pronta, quindi al 20 di agosto con la rosa pronta, questo vuol dire che ne devi annunciare anche uno ogni 10 giorni, 12 giorni, vediamo, perché comunque purtroppo per noi ma anche per voi tifosi il Milan questo mese non ha operato in maniera efficace sul mercato, sono i fatti a dirlo, non ci sono acquisti, quindi in effetti non hanno preso nessuno con la speranza che tra luglio e agosto arrivino questi famosi 4 rinforzi che il Milan aveva messo in programma. Uno di questi potrebbe essere Fofanà. Io credo che Fofanà sia davvero il primo uomo a centrocampo individuato dal Milan per rinforzare la rosa. Fofanà è un giocatore del Monaco all'ultimo anno di contratto che però ha stabilito insieme alla sua squadra, la squadra francese, di essere liberato in questa sessione di mercato. Fofanà piace tantissimo a Moncada, lo sta seguendo da mesi e ora un po' tutti si rifugiano dietro al fatto c'è ancora l'europeo, è ancora l'europeo, vediamo cosa succederà dopo l'europeo, però intanto Fofanà può essere sì un obiettivo ma bisogna concretizzare. Se la Francia va in fondo all'europeo vuol dire che bisogna aspettare ancora diversi giorni prima di concludere quest'operazione. Fofanà però ribadiamo che è uno degli obiettivi principali, se non l'obiettivo principale, insieme ad altri nomi che abbiamo fatto nel corso dell'estate come Hoidberg, come lo stesso Andrè del Fluminense, come Wiffer, sono tutti giocatori che possono essere piazzati davanti la difesa nel ruolo di mediano, anche se poi Fofanà oltre a fare il mediano può fare anche la mezzala, quindi può adattarsi in un 4-2-3-1 ma anche in un 4-3-3. Giocatori comunque molto importanti, interessanti, fanno parte della rosa della nazionale francese. Io mi auguro che il Milan prenda Fofanà perché davanti alla difesa o comunque al centrocampo può dare davvero tanto, può essere davvero un bel rinforzo per la squadra rossonero, ma bisogna cominciare ad acquistare, bisogna cominciare a comprare perché comunque l'Inter gli acquisti a parametro zero li ha già fatti e sono Zielischi e Taremi. La Juve ha preso Douglas Luiz che secondo me è un gran bell'acquista a centrocampo e sta per prendere anche Turam dal Nizza, il fratello di Marcus Turam dell'Inter. Quindi Fofanà, primo nome a centrocampo, il Milan vuole prendere lui. A centrocampo, ma ovviamente ha un ruolo diverso e caratteristiche diverse rispetto a Fofanà, ho visto che un po' tutti stanno ritornando, sono arrivati ora dopo un po' di giorni di ritardo sulla notizia di Rabiot. Su Rabiot, ragazzi, siamo chiari, le richieste sono alte, le richieste sono molto alte, ci sono anche le commissioni da pagare. Quello che possiamo dire è che il Milan ha incontrato la mamma di Rabiot per parlare di quest'operazione. Il Milan vuole fare Rabiot, ma se ti chiedono 8 milioni di ingaggio, 7 e mezzo, più le commissioni, è chiaro che è complicato. L'unica cosa su cui il Milan può, come dire, avere più appeal forse rispetto alla Juve è il fatto che la Juve proponga a Rabiot un contratto di due anni, mentre il Milan può proporre a Rabiot un contratto di tre anni o forse di più. Quindi sostanzialmente il Milan gioca sugli anni di contratto. L'ingaggio però è chiaro che non può essere più alto di 7 milioni, parliamo attualmente di un ingaggio già alto e sarebbe, Rabiot guadagnerebbe anche più di Rafa Leao, quindi capiamo che è un'operazione complicata. però il sondaggio, l'incontro con l'agente di Rabiot, il Milan lo ha fatto con Moncada. A proposito, appena il Milan ha ufficializzato l'Under 23, che abbiamo detto chiameremo Milan in un futuro, così si chiama, sono arrivate delle polemiche clamorose da parte della Serie B con il presidente Balata. Allora, Juve e Atalanta hanno le seconde squadre ormai da anni, soprattutto la Juventus, sono tanti anni che ha la squadra B, la famosa seconda squadra. Nessuno dice mai niente, non ho notato polemiche, nessuno dice mai nulla. Appena il Milan riesce a fare la seconda squadra, appena viene ufficializzata dalla FGC, a Preticello cominciano le polemiche. Non capisco davvero, cioè, è mai possibile che la stessa cosa viene fatta da altre società, da altre squadre e non succede niente. Appena la fa il Milan questa cosa, si aprono le polemiche. La Serie B resta contraria alle seconde squadre. Lo ha confermato la Lega del campionato cadetto, sottolineando che in merito al punto dell'ordine del giorno inerente alle seconde squadre, ha ribadito in Consiglio federale la propria posizione di contrarietà, rilevando la permanenza della gravissima violazione statuaria commessa a suo tempo, con l'introduzione della norma ed evidenziando come l'accesso al campionato della Serie B comporti uno squilibrio al principio di equa competizione, non potendo esservi promozione con chiara alterazione dell'integrità del merito sportivo. Questo è il comunicato fatto dalla Lega Serie B sulle seconde squadre. Ovviamente il Milan fa la seconda squadra ed escono fuori le polemiche. Ci sono anche delle dichiarazioni di Paolo Maldini, non le abbiamo commentate, ma secondo me sono interessanti da commentare insieme. Maldini ha parlato in un podcast di Luca Gemignani, ACOS, il podcast. Maldini dice, spiegando un po' il settore giovanile e i giovani, come vengono gestiti giovani all'interno di una squadra, lancia non una piccola ma una bella frecciatina alle proprietà straniere senza andare nel merito che sia Elliot, che sia Redbird, che sia la proprietà dell'Inter, la proprietà americana della Roma. Non cita il nome della proprietà, parla in maniera generica. Però lui, venendo dall'esperienza dal Milan, è chiaro che comunque fa riferimento anche a quello. Maldini dice, quando ho fatto il dirigente, avendo avuto 25 anni di esperienza, ho cercato di metterla a frutto, cercando di supportare quelli che sono i ragazzi molto giovani. Sappiamo benissimo qual è l'importanza di un supporto, anche a livello morale, sia prima che dopo le partite. Dico sempre che sono cose non tangibili queste, cioè l'aiuto morale ad un giocatore, non lo vai a mettere su curriculum. Lui dice, non sono cose tangibili ma fanno le fortune dei club e le cose non tangibili difficilmente si possono spiegare in un foglio Excel al proprietario. E qui in effetti c'è proprio un riferimento al fatto che magari il Milan, diciamo straniero degli ultimi anni, è molto pragmatico. Quindi un Milan che usa dati tangibili, però il supporto morale, l'aiuto morale ad un giocatore prima e dopo il match non lo puoi spiegare in un file Excel. E questo è il concetto che vuole esprimere Paolo Maldini. Sono fuori dalla portata o da possibilità di un controllo di un proprietario queste cose, dice Maldini. Sembra che tu abbia una formula magica ma non lo è, è qualcosa che ti ha portato ad avere successo se lo hai avuto. Successo non vuol dire solamente vincere, vuol dire anche cercare di fare il massimo delle tue possibilità. Quindi sostanzialmente Maldini dice quando vado a Milanello e parlo con Teo Hernandez o con Leao o con un giocatore che ha sbagliato un gol o con un giocatore che ha sbagliato un rigore o che ha preso un rosso o che ha un problema familiare, quelle robe lì a Milanello non vengono scritte in un file Excel, non vengono messe a curriculum, ma sono le cose che fanno la differenza. Questo è quello che vuole spiegare Paolo Maldini alle proprietà straniere, ma in generale quando dice che si possono spiegare in un foglio Excel al proprietario e io credo che il riferimento sia abbastanza chiaro. Ragazzi io vi saluto, vi ringrazio, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale YouTube, tanto è semplice, basta un clic e ci vediamo dopo. Sperando di avere delle novità per quanto riguarda il mercato in entrata, il mese di giugno che sta volando via, non ci resta che sperare che dall'inizio della prossima settimana, cioè dall'inizio di luglio, il Mian cominci a muoversi in maniera un po' più concreta nel mercato in entrata per la prima squadra. Ciao a tutti!